In Africa, i paesi che conosco dell'Africa, un saluto non costa niente. Una persona lo conosci, non lo conosci, ti metti sulla strada, il minimo che puoi fare è salutarlo. Io passavo, salutavo, nessuno mi rispondeva e io ci rimanevo male perché io ti vedo come mi hanno educato i miei genitori, ti saluto e dopo state di decidere di rispondermi o no. Grazie a tutti.